Bentornati a tutti quanti qua su F1 in generale, è appena iniziato uno dei gran premi più attesi dell'anno, il gran premio di Monaco e come sempre, come per tutti quanti gli altri appuntamenti della Formula 1, siamo qua a commentare insieme il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi vi ricordo di iscrivervi e di seguirci su tutti quanti gli altri social per non perderci nessun tipo di aggiornamento sulla Formula 1. Circuito di Monaco dove tutti quanti i team hanno portato le ali ad altissimo carico, visto che comunque questa qua è un tracciato dove serve tantissimo l'aerodinamica e vediamo benissimo da queste foto di Albert Fabrega quanto è alta l'incidenza delle ali posteriori della vettura. Red Bull è praticamente verticale come anche Mercedes, Ferrari forse sembra un pelino meno inclinata ma probabilmente è anche la differenza di inquadratura della foto, comunque sono ali ad altissimo carico e Ferrari porta per la prima volta in gara un'ala posteriore con un carico differente rispetto a tutte le altre gare visto che fino a qua avevamo visto la stessa alettone su tutti quanti i circuiti. Chi porta aggiornamenti in questo Gran Premio di Monaco è Mercedes. Mercedes che porta un'ala anteriore quasi totalmente rivista. Già comunque da inizio del campionato, fin dalla presentazione della macchina, c'erano stati tantissimi chiacchierici, tantissimi discorsi su questo elemento dell'ala anteriore di Mercedes che andava a generare dei flussi particolari che andavano poi nel fondo. Inizialmente si pensava che sarebbe potuta essere anche illegale ma poi comunque la FIA l'ha deliberata e Mercedes ci ha corso. Per questo Gran Premio hanno deciso comunque di cambiare specifica. Una specifica più classica, molto simile a quella che hanno tutte le altre team in Formula 1. Infatti si vede come sempre Fabregas ha messo questa manina per farcelo vedere bene come non c'è più quella specie di filamento che percorre dall'elemento più alto fino al musetto. Musetto che cambia anche leggermente nella sua forma. Stake Sauer F1 Team ha portato un aggiornamento per quanto riguarda il pilone dell'alettone posteriore passando da un doppio pilone a un singolo pilone. Aston Martin anche, oltre comunque ad alto carico, l'ala posteriore ha subito anche delle variazioni delle geometrie per andare a aumentare la performance della macchina. Tutti gli altri aggiornamenti che sono stati portati da tutti gli altri team sono semplicemente mirati per questo tipo di circuito. Essendo Monaco un circuito molto particolare e molto diverso rispetto a tutti gli altri hanno bisogno degli accorgimenti affinché la macchina comunque possa adattarsi bene a questo tipo di circuito. Circuito che presenta un asfalto da città, quindi con molta poca aderenza. Dove vediamo anche dal documento ufficiale Pirelli è una pista dove c'è poco stress delle gomme, una pochissima accelerazione laterale e un asfalto con praticamente zero grip. La cosa che conterà maggiormente sarà l'evoluzione della pista e in una qualifica, soprattutto in una qualifica a Monte Carlo dove fa il 90% della gara, è molto importante perché più le macchine girano più l'asfalto verrà gommato e quindi ci sarà più trazione, più aderenza dello pneumatico al terreno e questo ovviamente andrà sicuramente a favore di chi riuscirà a fare il giro di qualifica per ultimo. Prova libero a uno che non ha fatto vedere poi così tanto passo gara. In FP1 Ferrari e Red Bull non hanno ancora usato le gomme soft, cosa invece che ha fatto Hamilton che si è portato in testa alla classifica delle FP1, con pochissimo scarto da Oscar Piastri seguito da Russell e Norris. Sempre nelle FP1 Hamilton ha fatto registrare la velocità massima, cosa molto strana per Mercedes visto che quest'anno non sono mai riusciti ad andare veloci sul dritto. Comunque come dicevamo ho una sessione che ha regalato veramente pochissimo per quanto riguarda il passo gara. Infatti vediamo che colui che è andato un po' più lungo è l'éclair che con la gomma dura poi tutti gli altri si possono considerare non propriamente dei long run. Durante l'FP2 abbiamo visto un bel po' di cose differenti a partire da tutti quanti che hanno girato e provato a spingere molto di più hanno avuto più o meno graining sulle loro coperture chi ne ha avuto abbastanza è stata comunque la Mercedes di Hamilton che ha avuto qualche problemino sull'anteriore ma non solo perché comunque anche Russell ha lamentato dei problemi di vibrazione sullo sterzo proprio nella fase finale della staccata di curva 11 che gli ha fatto commettere anche un errore diverse volte proprio sulla stessa curva. Anche la Red Bull di Verstappen non è stata esente da problemi perché fin dall'inizio della sessione lamentava che la macchina saltellava parecchio soprattutto nella parte centrale della curva si vede anche delle immagini dove proprio la macchina l'anteriore di Verstappen saltella. Arriva anche alla curva dopo il tornantino del Loves che perde la macchina e tocca con la posteriore sinistra il muro. Colui che è stato più impressionante di tutti quanti durante questa seconda prova libera del Gran Premio di Monte Carlo è Charles Leclerc che sembra veramente indemoniato come se proprio volesse una redenzione su tutte le sfortune e anche su tutti gli incidenti che ha avuto durante le varie stagioni del Gran Premio di Monte Carlo sia per colpa sua che non per colpa sua ovviamente ha proprio bisogno e voglia di prendersi questo podio Leclerc e si è visto dal fatto che martellava, ogni giro andava sempre più veloce, faceva fucsia su fucsia e infatti ce lo ritroviamo in prima posizione con 1-11-278 con quasi due decimi di distacco su Hamilton seguito poi da Alonso con quasi mezzo secondo di svantaggio Verstappen, Norris, Sainz, Stroll, Perez, Albon e Russell Albon fa piacere vederlo lì anche se comunque ha lamentato che la gomma veniva usurata un po' troppo in fretta comunque è una sessione che fortunatamente è filata tutta liscia senza alcun tipo di problema tranne qualche piccolo contatto con le barriere qua e là ma è monaco ed è normale così qua vediamo il giro veloce che è stato percorso da Verstappen e da Leclerc entrambi l'hanno fatto al loro 14esimo giro dell'FP2 con ben 5 decimi e mezzo di differenza tra i due a favore di Leclerc vediamo dove Leclerc è stato più incisivo, nelle sezioni in rosso e in blu vediamo dove Verstappen è andato più veloce fa piacere vedere che dove conta la trazione della vettura Ferrari sia messa molto bene infatti quei tratti di pista sono sempre più avvantaggiati guardando però le telemetrie della velocità possiamo notare come Red Bull con Verstappen siano stati molto più bassi di motore visto che su tutti quanti i rettifili e anche sulla progressione dell'accelerazione della macchina quindi in quanto tempo riescono ad arrivare a una certa velocità siano molto più lenti di Ferrari questo sì indica che comunque hanno usato meno power unit rispetto a Ferrari per quanto riguarda i passi gara è un pochino più difficile andare a vedere quello che è successo sia perché essendo Monaco una pista molto piccola e stretta quando c'è del traffico si tende a perdere moltissimo tempo ed è per questo che comunque vediamo un giro veloce, un giro lento non è facile fare dei giri costanti qua infatti possiamo benissimo vedere il lavoro che è stato fatto da Verstappen, Hamilton e Leclerc dove non c'è una vera e propria costanza l'unico potrebbe essere Hamilton che con gomma gialla si è ritrovato a fare dei giri abbastanza vicini l'uno tra l'altro però poi comunque ad avere anche abbastanza graining con la gomma gialla andando a prendere dei tre top team quindi Ferrari, McLaren e Red Bull il pilota che è riuscito a essere più costante nel passo gara ci ritroviamo davanti a un grafico del genere dove Sainz pare avere veramente un buon passo rispetto agli altri due e Norris essere un pochino più in difficoltà in questo momento abbiamo visto che comunque aveva una macchina abbastanza ballerina e non tanto semplice da governare quindi Ferrari per ora sembra stia andando molto bene tutti quanti comunque a parità di mescola vediamo che i tempi sono sull'1.15.6 per quanto riguarda Ferrari poi Red Bull 1.16.0 e McLaren 1.16.4 c'è quattro decimi di differenza l'uno dall'altro non dimentichiamoci che con i motivi elencati prima non è assolutamente semplice trarre delle conclusioni anzi è praticamente impossibile anche perché poi nella gara di domenica il passo gara conta relativamente poco se non niente visto anche come nel 2018 Ricciardo è partito dalla pole e ha vinto la gara praticamente senza la parte elettrica e nessuno è mai riuscito a superarlo perché a Monaco conta al 98% la posizione in qualifica ed è per questo che abbiamo visto tutti quanti fare molta più prova di qualifica piuttosto che al passo gara arrivati a questo punto del video vi ringrazio, vi invito nuovamente a seguire la pagina e tutti quanti i nostri canali social perché noi ovviamente ci rivediamo qua dopo le qualifiche a commentare sicuramente una delle qualifiche più belle e divertenti di tutto quanto il campionato io vi auguro una buona serata e grazie mille a tutti quanti